Grazie Presidente, mi fa piacere anche aver incontrato il favore dei colleghi. Sarò rapidissimo, visto i tempi, questa mozione va in realtà a ribadire una norma, un articolo in particolare che avevamo introdotto già nella delibera di luglio dello scorso anno che andava a sostegno delle attività di ristorazione semplificando e cercando di aumentare la possibilità di occupazione di suolo pubblico e quindi di poter mettere dei tavolini all'aperto, con questa mozione, richiamando questo articolo andiamo a chiedere al sindaco e all'assessore competente di realizzare delle vere e proprie aree pedonali temporanee anche per fasce orari, per poche ore magari a pranzo o a cena, così da consentire anche a quei ristoranti che non hanno la possibilità di avere tavolini all'esterno di poter competere in maniera uguale con chi ha questa possibilità. Quindi sulla scorta, tra l'altro, di tanti esempi, anche foto che si possono vedere in rete di quanto già fatto a New York piuttosto che a Londra, si tratta di parti di strade in cui in determinate fasce orarie si consente l'occupazione di suolo pubblico quindi l'installazione dei tavolini ai ristoranti anche non prossimi, diciamo così, a quell'angolo, a quel pezzettino di strada e questo secondo me, secondo noi, è una misura molto importante perché consentirà alla imminente riapertura di poter partire, diciamo così, tutte le attività di ristorazione dalla stessa punto, insomma, in sostanza e quindi ecco, questa è in sostanza la mozione, mi auguro che ci sia un ampio consenso e poi soprattutto, ovviamente, anche personalmente con la mia commissione restiamo a disposizione eventualmente per, col supporto dei municipi, individuare le aree più idonee a tale scopo. Grazie.